Bianchini è una campagna elettorale che come al solito vede soprattutto protagonisti o meglio gli organi di informazione che danno spazio a tante carriate sindaco, però poi ci si dimentica invece di chi poi dopo rappresenta i cittadini che poi vanno a bussare la porta che sono i consiglieri comunali. Ma guardi, io non vedo l'ora che venga il giorno 11 giugno perché sono anche stanco, perché io vado a porta a porta, vado in giro di qua e di là e parlo ogni giorno col cittadino, col popolo. Ripeto, non vedo l'ora che finisca questo teatrino perché questo non è altro che un teatrino. Andiamo a vedere i problemi veri, i problemi fondamentali che il cittadino ha perché come la vedo io e tanta altra gente il paese è allo sbando più completo. Senta, in questi giorni che avevamo appunto il discorso Fio Domenica c'è il discorso in teoria della ripresa dei confini dell'area Scheng, addirittura una nota data proprio dalla Polizia di Frontiera e un sindacato di Polizia ha detto che non abbiamo uomini e mezzi per controllare i confini come si dovrebbe e quindi facciamo una sorta di controllo spot. Però due settimane fa la prefettura di Gorizia chiese ai goriziani in particolar modo di avere pazienza per le file magari che avrebbero potuto arrivare. Insomma sembra quasi una presa in giro perché se anche passiamo per Casarossa praticamente non c'è mai nessuno. Certo, allora su questo punto io sono sempre stato e sarò sempre per un mondo libero. Io voglio che il cittadino, sia rosso che bianco, verde e blu, possa girare per tutto il mondo. Questo è il mio sogno. Io voglio, ripeto, che tutti i cittadini di questo mondo abbiano quello di poter girare da qualsiasi parte. Io sono sempre stato per i ponti e sono sempre stato contrario contro i muri. Anche questo perché ho avuto la grande fortuna in gioventù di lavorare con gente. Il primo era il professor Basaglia Franco che voleva ponti e non muri. Qui invece vogliono tutti solo i muri. Con i muri non andremo da nessuna parte.